La chiusura delle feste di Natale coincide con la partenza dei saldi invernali, inizialmente previsti per il 5 gennaio e poi posticipati a oggi giovedì 7 gennaio. Il termine fissato è per domenica 7 marzo. Si avranno dunque 60 giorni di tempo per fare acquisti a prezzi scontati. È quanto stabilito dalla delibera della Regione Lombardia dello scorso 23 dicembre, una decisione, quella di posticipare, maturata a seguito delle limitazioni degli spostamenti e delle aperture degli esercizi commerciali imposte dal decreto legge di Natale. C'è tanta attesa da parte dei commercianti. La partenza degli sconti invernali potrebbe dare una boccata d'ossigeno a tante attività messe in difficoltà dal periodo di emergenza sanitaria e da tutte le restrizioni ad esse legate. Non possiamo illuderci che i saldi siano risolutivi rispetto al calo percentuale del lavoro della stagione dovuto ai mesi di chiusura, commenta Marco Cassina, presidente di Federmoda di ConfCommerce Como. È difficile che si arrivi almeno al pareggio, anche se ci speriamo. La nota positiva per chi intende fare acquisti è che i negozi sono più assortiti e gli sconti sono molto più alti rispetto agli anni scorsi. Siamo pronti ad accogliere i clienti, prosegue Cassina. Fatto singolare è che i primi due giorni di saldi siano infrasettimanali, ma sabato e domenica saremo aperti e contiamo di rifarci, anche se il riferimento è soltanto al bacino di Como. Peserà molto la mancanza della clientela svizzera e questo vale per tutti, dall'artigiano al parrucchiere, dal fruttivendolo all'ambulante del mercato fino al negozio di abbigliamento.